ben trovati ben trovati al tg med sport ben trovato anche a salvatore geraci opinionista del corriere dello sport ciao salvatore eccomi luca ciao un saluto a tutti i telespettatori siamo ormai in tema di oscar in tema di grande bellezza e ovviamente noi possiamo limitarci ad ascoltare le parole del nostro sorrentino che si chiama stefano e fa il portiere di mestiere ascoltiamo c'è questa casualità di avere lo stesso cognome allora ecco poi grazie al mio amico alessio siamo riusciti a fare anche quella loro hanno fatto quella quel fotomontaggio che secondo me spettacolare sembra veramente sembra veramente io però ecco era una cosa carina giusto per rendere omaggio a un regista grande come come lui ecco la cosa importante la promozione c'è il record di imbattibilità certo fa piacere è chiaro che se non prendo gol sicuro a casa un punto lo portiamo quindi questo vuol dire dar continuità vuol dire crescere vuol dire arrivare il prima possibile al nostro obiettivo però ecco la cosa più importante vincere il campionato quindi è chiaro che a noi dispiace perché sinceramente giochi bene giochi male potevi vincere di più potevi vincere di meno però quanto tempo è che siamo primi in classifica se non basta essere prima in classifica per riempire lo stadio noi di più non possiamo fare non è che posso capire all'inizio eravamo partiti male che eravamo dodicesimi tredicesimi allora c'era qualcuno che storceva il naso ed era forse anche una parte giusto così visto la retrocessione dell'anno prima però siamo primi in classifica cosa dobbiamo fare a noi dispiace tantissimo perché comunque per come è fatto anche lo stadio comunque per come è calorosa anche la gente quando quando è pieno è un'arma in più per noi però non è che possiamo obbligare la gente a venire allo stadio ecco quindi bisogna ringraziare quei soliti 7 8 mila che tutti tutti i sabati con la pioggia con il vento con il sole sono lì presenti e ringraziarli salvatore la grande bellezza non ti dico di sorrentino del portiere se vuoi puoi anche inserirla ma la grande bellezza del palermo di iachini qual è sorrentino è stato chiarissimo è tutto sommato ha detto le stesse cose che dico io perché lui sostiene che essere in testa la classifica avere distanziato gli avversari e questo il segreto l'autentico segreto l'autentico fatto importante concreto del del palermo dice giochiamo bene stiamo ultimi in classifica che succede poi chi è che gioca bene e ha detto anche chi è che gioca bene in in serie a ha ragione lui è un calcio profondamente in crisi in crisi di di giocatori in crisi di valore e anche in crisi di gioco per cui un palermo così concreto secondo me è il massimo che si possa avere la vera bellezza del palermo è questa parliamo anche di questa finta polemica perché di fatto polemica non ce n'è stata tra il commissario tecnico dell'under 21 luigi di biaggio e il palermo per andrea belotti si è creato un po di caos dove caos in realtà non ce n'era per nulla perché belotti ha risposto alla convocazione nazionale chiaramente non si poteva esimere da fare questo ma poi lo staff medico della nazionale lo staff medico del palermo di comune accordo hanno deciso di rispedirlo a casa però si è voluta strumentalizzare questo questa stessa situazione con quello che è successo per chiellini tra conte e brandelli insomma però mi sembra che qui siamo completamente su due pianeti diversi alcune volte la semplicità sarebbe la soluzione di tutto e invece noi riusciamo a complicarci sempre la vita con situazioni assurde e astruse io non riesco a capire di fronte a una valutazione medica sulle condizioni di belotti che senso ha farlo andare lì fargli stringere la mano e farlo ritornare indietro mi sembra un eccesso di di controllo in un momento in cui invece le società e la federazione dovrebbero collaborare e questo quello che non mi quadra ma in tutte le situazioni secondo me un giocatore infortunato è infortunato e secondo quello che dicono i medici poi se i medici fossero degli imbroglioni è da dimostrarlo chiudiamo la pagina del calcio così grazie salvatore grazie a voi arrivederci andiamo su trmweb.it nella sezione sport per andare a vedere tutte le notizie di questa giornata intanto parliamo di pallavolo con la seconda vittoria consecutiva per la sigel marsala in b2 femminile dunque è un una vittoria che cancella di fatto il periodo negativo dell'ultimo mese per la squadra di ciccio campisi mentre invece lasciamo dunque sulla volley sulla b1 femminile la vittoria la sigel marsala mentre invece andata a salvatore cusumano la vittoria del terzo panormus historic la prima targa città di palermo organizzata dal veteran car club panormus con il patrocino del comune non è riuscito a vincere questa volta il campione siciliano giovanni moceri due volte di fila sul podio della mille miglia vincitore dell'ultima edizione del giro di sicilia 2013 quasi perfetto in prova il vincitore della manifestazione che ha gareggiato a bordo di una storica utilitaria italiana in versione sportiva un'auto bianchi a 112 delle 1973 comunque incredibile il risultato di moceri che ha gareggiato a bordo di una vettura che non aveva mai guidato prima in vita sua una fiat 1100 del 56 con guida all'inglese messa a disposizione dal presidente del veteran nino aucello sul terzo gradino del podio un'altra vettura italiana la pionziana delle tre una lancia ardea delle 1952 guidata da marcello desimone accompagnato da mariangela concorreggi la gara ha anche assegnato punti preziosi agli accaniti partecipanti del campionato italiano asi abituati a gareggiare quasi ogni fine settimana in svariate parti di italia andiamo invece adesso al basket con il successo ancora una volta della nuova aquila basket nel campionato dnc nazionale si giocava di nuovo contro catanzaro 85 79 la vittoria finale con un palamangano gremito e soprattutto con sei i punti di stacco che adesso separano le due squadre quindi primo posto blindato dalla nuova aquila palermo in questa fase ad orologio mancano cinque giornate all'inizio dei playoff lo spieghiamo arrivare primi in questa fase significa poter comunque giocare sempre la bella dei playoff in casa quindi due gare in casa su tre l'eventuale terza e allora noi andiamo a sentire le parole dei protagonisti di questa sfida partiamo da dario andrea sicuramente vincere davanti a questo pubblico è stata un'esperienza fantastica ma vedo che fino alla fine non bisogna mai mollare la partita finisce al 40esimo e vedo che sicuramente la avere la panchina lunga di questa squadra è un gran vantaggio sicuramente l'assenza di teo e di marcello si è sentita però la squadra e la panchina ha saputo rispondere nel momento di bisogno questa vittoria ci fa capire quanto siamo forti noi come gruppo moralmente e fa vedere quanto siamo uniti tutti insieme perché abbiamo fatto una vittoria molto importante anche con l'assenza di marcelli di teo siamo riusciti noi alla panchina che aiutiamo quelli che giocano di più a compiere questa vittoria l'abbiamo l'abbiamo meritato e guadagnato in campo e significa che dobbiamo ancora lottare altri altre partite trasferta e portarci a casa combattendo e lottando come abbiamo dimostrato di fare tutti e dieci oggi in campo vi ricordo che tutte le edizioni del tg medesport e le potrete rivedere sul sito trm web punto it non ci sono altre notizie grazie per essere stati con noi e arrivederci panificio badalamenti infinite specialità da gustare arancine un euro pizze familiari a soli cinque panificio badalamenti panificio rosticceria pizzeria dolci classici moderni panificio badalamenti sacca tubana un timmi pente via francesco crispi numero 290 a palermo infoline 388 90 88 192 iscriviti al canale iscriviti al canale